Assieme all'atteso parere, questa volta finalmente favorevole sul bilancio di previsione 2015, sono arrivate pure le dimissioni. Dario Zaccone lascia la presidenza del Collegio delle Visori dei Conti. Lo aveva già fatto lo scorso 23 febbraio, salvo poi ritirare la decisione per portare avanti il suo ruolo con senso di responsabilità, come dichiarato allora nella delicata fase attraversata da Palazzo Zanca. Questa mattina la lettera di addio è stata inviata alla presidenza del Consiglio Comunale e dal sindaco Renato Accorinti. Avendo completato le attività di controllo della documentazione sottoposta al collegio, scrive Zaccone, permanendo le ragioni che al tempo mi indussero a proporle, rassegno le mie irrevocabili dimissioni. Un divorzio annunciato, quello con l'amministrazione Accorinti. Nervitesi e contrapposizioni hanno caratterizzato nelle ultime settimane i rapporti tra i due organi. Più volte nel recente passato è stato puntato l'indice contro Zaccone e gli altri membri del collegio, colpevoli, secondo l'assessore al bilancio Luca Eller, di cercare il pelo nell'uovo, responsabili invece per l'ex assessore Tonino Perna di un complotto politico e danni della giunta a Corinti. Nell'ultimo atto compiuto da Revisori dei Conti, oltre all'ok sulla proposta di approvazione del previsionale dello scorso anno, anche l'invito a prevedere nel bilancio 2016-2018 la copertura degli interessi di mora non rilevati nell'esercizio 2015. Il documento ora potrà iniziare il suo iter in Consiglio Comunale. Primo passaggio in Commissione e poi in Aula, ma altre nubi si addensano sul Comune di Messina. Si attende infatti la sentenza della Corte dei Conti, che dovrà esprimersi sul Consuntivo 2014, già sotto la lente di ingrandimento dei magistrati contabili e contestato lo scorso mese di aprile. Grazie.